Io passerei da una città di provincia a una realtà metropolitana. Daniela ci parlerà di un percorso che per certi versi è simile a quello che è stato fatto a Padova in un contesto molto probabilmente più difficile, più complesso che quello della Roma di questi giorni. E prima ci scambiavamo una battuta rispetto al centro sportivo che sta portando avanti l'associazione Libertinantes e quello è il vero stadio di Roma, c'è un dibattito in questi giorni sul famolo stadio. In realtà al di là, poi dopo su questo tema ci torneremo, sul tema della speculazione rispetto agli impianti e alle strutture sportive in realtà c'è chi attraverso il riuso e il recupero sta facendo delle cose grandiose e clamorose. Io passo la parola subito a Daniela. Grazie a tutti, grazie per l'invito, per poter presentare questa nostra esperienza. Due parole su Libertinantes, per chi non la conoscesse, con la Polisportiva San Precario oltre a condividere i valori e tante altre cose, condividiamo anche il compleanno, perché anche noi quest'anno a ottobre faremo 10 anni, per cui siete invitati, farete un lungo viaggio da Padova a Roma, maggio a Padova e a ottobre vorremmo veramente fare una due giorni per festeggiare non solo noi, ma tutte le realtà che come noi in tutta Italia lavorano proprio su queste tematiche. Nasciamo 10 anni fa con l'obiettivo di far giocare a calcio forse all'epoca i più invisibili fra i migranti che erano i richiedenti asilo e i rifugiati politici che ultimamente sono alla ribalta delle cronache purtroppo, e ci sono sempre e solo quando muoiono in mare o quando Salvini dice che è colpa anche del terremoto e colpa dei rifugiati e migranti, però normalmente 10 anni fa non si parlava di queste persone che invece vivono in un limbo. Roma è una città grande, io non conosco i tempi, li chiedevo oggi qui a Trento quanto i ragazzi debbano aspettare per poi essere collocati non in strutture d'accoglienza ma magari in posti anche un po' più dignitosi. A Roma c'è gente che sta tre anni anche nei centri d'accoglienza aspettando che la commissione, la prima commissione si riunisca per vagliare i documenti con tutte le difficoltà del caso perché i primi sei mesi non possono lavorare, è bella la legge perché ti dici i primi sei mesi non possono lavorare, poi sì però non li assume nessuno perché chiaramente non hanno quindi il mondo penso che lo conoscete tutti perché ci lavorate. Quindi il nostro obiettivo era quello e continua a essere quello, nel senso noi sostanzialmente lavoriamo con ragazzi richiedenti asilo e rifugiati politici. Per questo giochiamo un fantastico campionato di terza categoria fuori classifica perché non possiamo tesserare i ragazzi non solo per le leggi federali che c'è il famoso scoglio per cui un tot di giocare ogni anno cambia, ma soprattutto perché sono richiedenti asilo, la maggior parte quindi hanno questi vari documenti, non hanno un lavoro e la Polisportiera San Precario ha cominciato, non è la prima campagna che fa perché ha cominciato da gioco anch'io però è uno dei problemi che noi ci ritroviamo di fronte, cioè non si riescono a tesserare dei ragazzi per campionati di terza categoria amatoriali quindi nessuno ha vellità di diventare campioni, poi magari qualcuno lo è anche ma sicuramente non rimane a giocare con noi. E quindi noi da nove anni giochiamo un campionato di terza categoria fuori classifica questo vuol dire che tutte le partite le facciamo ma non prendiamo punti anche se vinciamo quindi l'anno scorso siamo arrivati secondi, non era la prima volta, a zero punti e quindi insomma è una bella soddisfazione e la cosa assurda è dover poi spiegare ai ragazzi questa cosa che si sentono nuovamente esclusi quando invece noi continuiamo a ripetere e per noi è assolutamente vero che lo sport è inclusione. Quello che dicevi tu dello spogliatoio è fondamentale noi ogni anno vengono a giocare con noi, noi facciamo anche l'escursionismo, un centinaio di ragazzi e ragazze stiamo tentando l'esperimento anche della squadra femminile di rifugiate e per loro è un modo per uscire davvero da quello che è una situazione anche di depressione molto forte perché poi se tu non puoi lavorare puoi solo andare a scuola è tutto molto costoso Roma è una città enorme che ha dei problemi grandissimi anche in termini di spostamenti poi adesso con i nuovi sistemi se sei nello Sprar ti danno il biglietto dell'autobus o comunque una tessera o qualcosa se non sei nel circuito Sprar non hai diritto neanche al biglietto quindi ti devi spostare a piedi o come si fa si sale sull'autobus sperando che non passa il controllore questo vuol dire però per loro non vivere alla città le strutture a volte sono in posti molto lontani noi vengono a giocare con noi ragazzi che sono a Castelnuovo di Porto per chi non è di Roma la direttrice verso Viterbo, Roma Nord per cui per arrivare da noi che siamo a Pietralata loro devono prendere un autobus, un treno, la metro A, la metro B e poi c'è un pezzo a piedi quindi questa è la realtà che vivono i ragazzi e questo campo dove noi giochiamo è stato costruito negli anni 50-60 dall'allora Casa del Popolo i compagni si sono tassati e fisicamente hanno costruito questa struttura all'epoca per i figli perché il problema grande era la scogliosi e quindi si diceva che fare sport chiaramente migliorava la salute io non so se a voi è mai capitato di vedere se lo trovate in rete guardatelo perché è molto bello un documentario che si chiama Il Maestro di Pietralata però Pietralata era proprio una classica borgata dove non c'era nulla, le case erano popolari Roma è una città che vive sull'abusivismo edilizio e sui palazzinari Roma è in mano ai palazzinari proprio e Pietralata era abbandonata la situazione anche igienica era molto precaria per cui costruiscono questo impianto sportivo proprio per i bambini per dargli degli spazi di libertà a un costo accessibile perché chiaramente non che a Roma manchino gli impianti sportivi però il problema è sempre lo stesso che ci sono alcuni sono bellissimi ma costano tanto costavano allora e continuano anche adesso ad essere poco accessibili il campo è stato usato moltissimo ci giocava l'Alba Rossa società abbastanza storica del territorio romano fino a che ha fallito e è stato rilevato alla struttura dall'Ater regionale quindi è una struttura dell'Ater di Roma che l'ha data in gestione ad un simpatico personaggio che ha pensato bene di fare qualche speculazione anche sui giocatori noi quando siamo entrati abbiamo trovato tutte le foto delle sue squadre c'era in particolare uno che non so come era tesserato per otto squadre nella stessa stagione figurava con maglie diverse quindi insomma questi simpatici personaggi che a volte si trovano e ha completamente rovinato quello che era un posto meraviglioso costruito per i cittadini un posto che è stato chiuso quando siamo entrati noi un giorno riusciremo a fare un documentario delle foto di com'era e di com'è adesso e ce la faremo però immaginatevi le scene che avete visto mentre lui parlava degli spazi che purtroppo si vedono nelle varie nostre città c'era proprio una giungla all'entrata gli spazi erano assolutamente impraticabili non c'era l'acqua calda non c'era l'elettricità noi paghiamo l'affitto ora un'altra cosa che vi dico sempre per farvi capire Roma e dove noi siamo costretti ad operare la proprietà è regionale dell'Ater però il campo non ha l'agibilità comunale noi siamo andati all'Ater e abbiamo detto vabbè tu sei regione quello è il comune mettetevi d'accordo no perché mancano tutti i piani li allaccio in fogna che dovrebbe avere l'Ater ma che ha perso quindi la regione e il comune non riescono a parlare tant'è che ci hanno dato un campo in gestione che secondo loro noi dovevamo usare solo come guardiania quindi io sono un'associazione sportiva ti chiedo in realtà noi siamo andati in regione chiedendogli un ufficio per mettere le maglie dei giocatori perché noi quando siamo nati ci allenavamo al campo della WISP Roma le maglie venivano lavate a casa da presidente e vicepresidente tutti quelli come si fa in questi casi però non avevamo uno spazio materiale dove conservare le attrezzature anche perché noi non diamo le maglie ai ragazzi ma abbiamo un magazzino di maglie e chiunque viene ad allenarsi con noi gli diamo la muta gli scarpini giocano e poi ci restituiscono il materiale che viene lavato e messo a disposizione quindi all'inizio non avendo un campo era un po' difficile la regione ci ha detto no no non ti do un ufficio ti do un campo sportivo e noi figurati non ci pareva vero e peccato che secondo il contratto che abbiamo che adesso siamo riusciti in parte a cambiare noi non potevamo usarlo neanche per gli allenamenti perché era inagibile quindi già da lì uno comincia a dire vabbè io ti chiedo un ufficio mi dai un campo sportivo sono un'associazione sportiva ma non lo devo usare per fare sport è tutto molto molto bello questa cosa è andata avanti per anni in cui noi abbiamo cercato all'inizio un po' di stare nelle regole perché dici vabbè noi comunque lavoriamo con un target particolare quindi io mi devo preoccupare anche di loro quindi quando parlo di Liberi Nantes dietro non c'è solo i volontari che siamo noi ma ci sono anche loro quindi abbiamo detto lavoriamo nella legalità andiamo a chiedere a un certo punto ci siamo un po' scocciati perché tanto non ottenevi nulla e quindi abbiamo cominciato anche noi a guardarci intorno a cercare delle alleanze a parlare con le persone soprattutto con i cittadini del quartiere perché quando siamo arrivati non siamo proprio stati visti benissimo i commenti che circolavano nel quartiere ecco il campo nostro l'hanno dato ai negri perché questo era la realtà che ci trovavamo quindi abbiamo cominciato a parlare con loro a fargli capire che in realtà non è che noi volevamo chiudere il campo è che ci avevano detto che non poteva essere aperto e quindi con loro abbiamo cominciato a immaginare dei percorsi di lavoro comuni in queste varie riunioni che abbiamo fatto con associazioni di tutta Roma ci è capitato un simpatico ragazzo un ingegnere che è venuto a vedere il campo e ha detto no no ma si possono fare i lavori perché noi avevamo sempre questa cosa di dover fare i lavori il campo inagibile no no si possono fare i lavori se prendiamo una serie di ragazzi dai centri d'accoglienza io faccio il capo cantiere gli faccio una sorta di corso di formazione quindi ovviamo anche il problema di loro che lavorano eccetera perché prepariamo proprio un vero e proprio progetto di formazione e ristrutturiamo insieme il campo quindi lui ci ha messo a disposizione lui un ingegnere due architetti del suo studio siamo andati a parlare con un'associazione di Roma che si occupa di cantieri edili e loro ci hanno regalato un corso di formazione di due giorni per i ragazzi sulla sicurezza sul lavoro poi gli hanno regalato anche il caschetto e hanno preso chiaramente l'attestato e due anni fa no l'anno si due anni fa due stati fa abbiamo fatto questi lavori d'estate con i ragazzi chiaramente abbiamo scoperto delle competenze altissime perché molti di loro in realtà erano già idraulici poi quando cominci a parlare ti raccontano la loro storia e ti dicono io sono un idraulico però in Italia non è riconosciuto dovrei andare a prendere un titolo che costa chiaramente fare il corso di formazione e quindi non posso esercitare quello che so fare meglio abbiamo avuto una trentina di ragazzi divisi proprio come si lavora su un quartiere quindi avevamo quelli che si occupavano della parte edilizia idraulici, elettricisti, saldatori eccetera e il campo effettivamente adesso è diventato un posto accogliente non è ancora chiaramente uno stadio meraviglioso però va sicuro che chi l'ha visto prima e chi viene a trovarci adesso la differenza la vede tutto questo l'abbiamo fatto con materiali di riciclo perché stavano dismettendo una casa un edificio a pietralata e siamo andati a parlare con quelli che dismettevano e quindi abbiamo detto noi siamo disposti a prendere i vostri scarti per loro chiaramente era ottimale perché altrimenti avrebbero dovuto portarli a smaltire e noi abbiamo riciclato comunque del materiale che sarebbe andato probabilmente in discariche che invece era ancora utile quindi se vedete le linghiere sono tutti pezzi di porte riprese, ripitturate, rimesse insieme tutte differenti che però a noi sono servite e quindi abbiamo fatto anche una ristrutturazione a costi limitati ma soprattutto cercando poi di non sprecare perché poi il problema è quello che noi buttiamo molto anche il fatto di dover distruggere dei luoghi quando invece si potrebbero recuperare e dargli nuove impulse e nuova vita con questo progetto siamo anche andati a parlare con l'allora assessore alle politiche sociali poi è giunta Marino quindi poi è successo tutto quello che è successo e gli abbiamo raccontato il progetto e Francesca, l'assessore molto vicino ai temi proprio cari ai rifugiati ha detto ottima cosa alla fine del corso il Comune di Roma è disposto a rilasciare un attestato come un vero e proprio corso di formazione promosso dalla provincia il risultato è stato che il 90% dei ragazzi che ha lavorato con noi alla Commissione ha avuto un parere positivo e quindi per loro è stata non solo un'esperienza bella, divertente per tutti noi poi lo è stato ma è servita anche l'altro risultato è che tre di loro adesso lavorano proprio all'impianto con funzioni non solo di custodi ma proprio di direttori oramai in particolare uno lo chiamava l'imperatore perché se sta tutto lui io non so più niente dove stanno le cose quando tocco una cosa mi guarda e mi dice questa arriva rimessa a posto perché è la più svizzera di chiunque altro e attraverso raccolte fondi siamo riusciti a ricavare dei soldi per cui vengono pagati non cifre altissime però comunque è un lavoro che per loro viene ritribuito e questa è la prospettiva che noi vorremmo immaginarci per il futuro fra le cose che a me hanno colpito molto perché poi nel frattempo abbiamo lavorato anche molto con il quartiere noi partecipiamo ogni volta che ci sono le pulizie delle aree verdi delle strade ad opera delle varie associazioni cittadine noi andiamo sempre con i ragazzi in una di queste abbiamo spiegato il motivo per cui oltre a lavorare al campo li portavamo anche a pulire una strada e ricordo che Silvén un ragazzo del Costa d'Avorio che faceva l'idraulico mi disse una cosa che mi ha colpito molto perché è molto vicino a quella che è la mia cultura politica ma che forse in Italia qualcuno si è dimenticato perché lui la prima cosa che mi ha detto mi ha detto guarda Daniele io sono molto contento che veniamo a pulire uno spazio che non è di fatto il nostro tra l'altro di questi ragazzi nessuno abita a Pietralata quindi proprio è una realtà che loro non gli appartiene sono molto contento per due motivi uno perché se noi recuperiamo degli spazi le persone escono in strada se le persone escono in strada si conoscono e magari si stanno simpatiche e forse eviterebbero di essere così chiusi fra di loro e di essere chiusi anche nei nostri confronti il secondo motivo è perché il lavoro è dignità e io stando in un centro d'accoglienza in cui mangio gratis esco ma di fatto non faccio nulla io ho come perso la mia dignità e per me invece il lavoro è qualche cosa che mi può restituire anche un senso come persona a me questa cosa colpì molto perché appunto non la sento dire molto soprattutto nei vari discorsi politici che si sentono soprattutto ultimamente l'ultima attività che abbiamo fatto è quella di recuperare una strada che passa vicino al nostro campo noi siamo appietralata al confine con un altro quartiere che si chiama Monti Tiburtini due quartieri che hanno la metropolitana quindi molto fortunati la B quando passa e io ho già aspettato dieci minuti una metro quindi questi sono i tempi che abbiamo però il quartiere è diviso a metà cioè è come se noi fossimo al confine c'è una strada che permetterebbe di arrivare a Monti Tiburtini senza dover fare un pezzo di tangenziale o strade particolarmente lunghe quindi a piedi di fatto consentirebbe alle persone di andare dall'altra parte ed è una stradina molto stretta e buia che confina con la chiesa noi un po' Don Peppone e Don Camillo abbiamo il prete alle spalle questa stradina chiaramente non illuminata la notte piena di gente che usava per andarsi a drogare le persone anziane non potevano più usarla perché era totalmente ridotta in stato d'abbandono insieme a un'associazione di ragazzi molto giovani abbiamo pensato di ripulirla e poi con i nostri ragazzi abbiamo messo delle luci a led che si illuminano al tramonto e quindi questa strada adesso viene riutilizzata di fatto da tutto il quartiere per poter andare dall'altra parte questa sorta di confine chiudo con una nota nei confronti del futuro quello che noi vorremmo fare che stiamo cercando di fare è portare questa esperienza ad un livello superiore cioè vorremmo insieme ad altre associazioni della città costruire un progetto più grande che prevede in futuro anche la creazione di una cooperativa sociale formata dai ragazzi che possono esattamente andare ad offrire quelli che sono i loro servizi in realtà di questo tipo perché è possibile ristrutturare degli spazi in particolare sportivi non a costi eccessivi mettendo in campo quelle che sono le loro competenze per loro diventerebbe anche uno sbocco lavorativo e forse riusciremo a portare un po' più di bellezza nelle nostre città credo che sia fondamentale anche la campagna a me è piaciuta molto quando l'avete lanciata l'anno scorso quella di spazi di sport perché purtroppo le immagini che avete mostrato sono ovunque in tutte le città ci sono dei posti che sono totalmente abbandonati ed è sempre più complicato per le persone riuscire a fare sport io non faccio parte di Berinantes ma lavoro anche alla Wisp e quello che noi vediamo quotidianamente è un abbandono delle persone del mondo dello sport perché costa perché a volte si rinuncia a fare sport magari a favore del proprio figlio perché è diventato sempre più complicato sempre più difficile vedere che i bambini giocano in strada si sta perdendo completamente quella che era una competenza motoria normale cioè i bambini prima correvano si arrampicavano facevano delle cose quindi arrivavano già a fare sport con un certo bagaglio adesso i bambini che arrivano non si sanno muovere sono totalmente scordinati e questo perché mancano proprio degli spazi dove un bambino può uscire reinventarsi un gioco popolare o semplicemente giocare a calcio senza dover spendere delle cifre inumane anche perché noi spendiamo quasi 3000 euro per l'iscrizione della nostra squadra al campionato lo facciamo perché vogliamo rompecoglioni alla federazione di fatto però questo è il costo e quindi le famiglie non riescono più a mandare o comunque a fare sport se ci fossero più impianti popolari dove la gente può anche rincontrarsi avere il piacere di incontrarsi e conoscersi forse molte delle barriere che ci sono cadrebbero molto semplicemente anche noi abbiamo a Bollona gli chiamano gli omarini quelli che stanno lì a guardare gli omarel quando in una delle tante pulizie delle piazze c'erano questi che ci guardavano e facevano però sti negri puliscono bene ma perché lo fanno e noi gli abbiamo detto per restituire la piazza al quartiere e loro sono rimasti alla fine di tutto li hanno invitati a fare colazione siamo rimasti con loro in qualche modo superi quella che può essere una paura a volte il razzismo nasce proprio dalla mancanza di conoscenza soprattutto in alcune persone anziane molto chiuse molto radicate all'interno a volte anche gli anziani fanno fatica ad uscire perché parliamo di quartieri dove non c'è neanche la strada e quindi molto spesso non riescono neanche a uscire per fare una passeggiata quindi questa è un po' la nostra esperienza e che adesso stiamo provando a portarla avanti svilupparla però per noi questa è l'unica strada percorribile grazie grazie a tutti